Abbiamo aderito come Assonautica grazie al consigliere di riferimento per questa iniziativa Andrea Talevi a questa bella iniziativa di dare la possibilità ai medici che hanno combattuto per il Covid di portarli in modo del tutto gratuito in barca per provare il sumo alle brezze del mare. Assonautica è un'associazione che appunto vuole portare il mare nelle persone, nel senso vuole portare quelli che sono tutti i valori che può trasmettere il mare per quella che è la libertà, per quello che è il senso comunque di leggerezza che comunque dà il mare. E questo è anche il messaggio che vorremmo noi comunicare per quello che sarà poi queste due giornate che dedicheremo sia sabato che domenica con l'uscita con le barche dei nostri soci. Un evento che è stato voluto da un gruppo di velisti e da una società velica di Genova che ben presto è diventato anche un punto importante come riferimento per tutti i velisti e per tutti questi sanitari ai quali vogliamo regalare una giornata di vela e un po' di relax in loro compagnia dove ci daranno le loro testimonianze di questo brutto momento che hanno passato. Noi per Pesaro abbiamo questa associazione di riferimento appunto dove è nato il presidente e l'assonautica e abbiamo diciamo anche grazie all'aiuto del nostro consigliere Andrea Biancani ha avuto modo di poter divulgare fra le varie associazioni di sanitari e dell'ospedale per poter portare appunto questa iniziativa a conoscenza loro ai quali hanno veramente aderito in tanti e noi adesso prossimo sabato 5 e domenica in due giornate con due momenti mattina e pomeriggio porteremo se riusciamo tutti che sono tanti in base agli armatori disponibili e faremo regalo appunto di questo momento di relax fra tanti diciamo così momenti difficili per loro.